Buongiorno a tutti e benvenuti a questa mattinata dedicata ai virus che sono ormai diventati purtroppo un argomento di grande attualità. Innanzitutto, permettetemi di presentarmi, sono Annalisa Grimaldi e sono la docente di Biologia Animale per il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche e sono anche responsabile del progetto Piano Nazionale Lauree Scientifiche, oltre a far parte della Commissione Orientamento del nostro Ateneo. Il progetto Piano Nazionale Lauree Scientifico è stato istituito dal MIUR nel 2015 e insieme all'attività di orientamento ha lo scopo di favorire una più stretta comunicazione tra scuole e università. Uno dei principali intenti di questo collegamento scuole-università è quello di aiutare gli studenti che dopo la maturità devono fare una scelta di studio e che forse propendono per gli studi scientifici, ma che non hanno ancora le idee chiare di cosa possa servire studiare la biologia o le biotecnologie. Quindi lo scopo di questa mattina è proprio quella di trasmettere a tutti voi la passione per gli studi scientifici e allo stesso tempo di diffondere in modo comprensibile i concetti approfonditi su tematiche estremamente attuali che ci toccano molto da vicino. Oggi infatti parleremo proprio di virus, ma è già in programma un'altra giornata dedicata a tematiche ambientali quali l'inquinamento derivato dalla plastica che affligge il nostro pianeta e di cui si sente ormai parlare su tutti i media. Ma rimaniamo sulla giornata di oggi. L'argomento virus verrà trattato da tre diversi punti di vista. Il primo relatore, il dottor Vianelli, ci parlerà di come i virus evolvono. Il secondo relatore, il dottor Davide Tosi, ci mostrerà come la matematica, che è spesso tanto odiata dagli studenti, sia in realtà di grande aiuto per predire la diffusione dei virus. E infine l'ultima relatrice, la dottoressa Alessandra Recchia, ci parlerà di virus buoni, cioè virus che possono essere di aiuto per curare alcune malattie. Ed è proprio da qui che è nato il titolo della nostra mattina. Virus che possono essere demoni, ma anche angeli. Prima di dare inizio ai seminari, passo però la parola per un breve saluto ai due presidenti dei nostri corsi di laurea triennale. La professoressa Flavia Marinelli, che è la presidente del corso di laurea in biotecnologie, e la professoressa Gornati, presidente del corso di laurea in scienze biologiche. Grazie e prego Flavia. Buongiorno a tutti, io sono appunto Flavia Marinelli e sono il presidente di corso di studio della laurea triennale appunto in biotecnologie. Allora, prima di tutto vi porto i saluti del nostro direttore. Noi siamo un dipartimento che si chiama Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, che è diciamo composto da biologi, biotecnologi, chimici che si occupano di biologia e medici. Quindi è un dipartimento che veramente si occupa dalla scienza di base nel settore appunto biologico, biotecnologico, fino, diciamo ci piace dire, fino al letto del paziente. Quindi abbiamo questa visione o cerchiamo di sviluppare questa visione nella nostra ricerca. Per quanto riguarda il corso di laurea, anzi i corsi di laurea che il Dipartimento eroga, sono quattro. Sono due lauree triennali, in biotecnologie appunto di cui sono presidente, e in scienze biologiche, sul quale lascerò la parola tra poco alla professoressa Gornati, e due corsi di laurea magistrali. Tutte e due i corsi di laurea magistrali sono internazionali, cioè sono ben erogati in lingua inglese, e proseguono appunto nella ricerca biomedica e o nella ricerca biotecnologica. Abbiamo anche un dottorato di ricerca, quindi abbiamo un intero percorso formativo, sempre in biotecnologie e scienze della vita. Due parole per quanto riguarda il corso di laurea triennale in biotecnologie. È un corso con un numero cosiddetto programmato, l'anno scorso abbiamo iscritto 140 studenti, e perché abbiamo il numero programmato? Perché uno dei punti di forza dei nostri corsi di studio, questo vale per biotecnologie e anche per biologia, è il fatto di offrire tanti laboratori didattici, cioè di mettere in grado gli studenti di frequentare i laboratori, che è una cosa molto importante, e che è una caratteristica del nostro corso di studio, ma anche del nostro Ateneo. Essendo un Ateneo relativamente piccolo, siamo molto attenti anche al rapporto tra i docenti e gli studenti. Quindi chi di voi deciderà, magari stimolato da queste giornate così interessanti, di proseguire in questi corsi di studio, può partecipare agli Open Day, che quest'anno saranno virtuali, in cui avrete tutte le informazioni più dettagliate appunto su come ci si scrive, su quali sono le materie che si seguono, e diciamo quali sono i laboratori, come si fa il tirocinio per conseguire la tesi, eccetera, eccetera. Non mi dilungo molto, ma appunto spero che questa giornata, che ringrazio gli organizzatori, e anche i nostri ospiti che ci daranno, che faranno questi interventi, e spero che questa giornata, come diceva la professoressa Grimaldi, sia un utile stimolo a pensare all'importanza delle conoscenze nei settori appunto biotecnologici e biologici, soprattutto in questo momento storico, in cui ci rendiamo conto tutti di quanto ci sia bisogno di ricerca e di impegno in questo settore. Quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata, che sia proficua, e lascio la parola alla mia collega professoressa Rosalba Ornani. Buongiorno e benvenuti. Non mi presento perché sono già stata presentata, e vi volevo soltanto dire due parole sul corso di studio di scienze biologiche. e noi lavoriamo e collaboriamo per la crescita, lo sviluppo e l'evoluzione dei nostri due corsi di studio. Non siamo come il Milan e l'Inter, che si definiscono cugini, e poi gli stessi tifosi, voglio dire, sono in conflitto gli uni con gli altri. Noi invece lavoriamo, lavoriamo insieme, perché quello che per noi è importante è la centralità dello studente. e lo potete verificare e constatare proprio con la sensibilità che noi abbiamo nell'organizzare questi eventi a partire dalle scuole superiori. Spero anch'io, come la professoressa Marinelli, che questi eventi vi aiutino nella vostra scelta futura. È un passo per voi molto importante. Io quello che dico sempre, quando faccio gli Open Day, è non studiate in previsione di un'occupazione, che è pure importante. Studiate quello che, di cui siete curiosi, quello che volete imparare. Perché poi, se siete, come dire, minimamente sgamati, come in realtà sono tutti i ragazzi della vostra generazione, un impiego poi lo si trova. Quindi non è che studiando biologia o biotecnologie dopo dovrete per forza fare. Scegliete questo corso se siete curiosi di imparare quello che noi vi proponiamo. E volevo anche aggiungere un'altra cosa. Non siate focalizzati, cioè non chiudete la vostra mente. Quindi è una giornata in cui si parlerà di virus, ma il virus non è il Covid-19. Purtroppo arriviamo a festeggiare, tra virgolette, il primo compleanno di questa brutta bestia. Ma i virus non sono solo Covid-19. I virus, come mi parerete, anche durante l'arco della giornata seminariale, sono, come dire, milioni e ci sono quelli, come dire, che per noi sono patogeni, ma sono quelli, come sentirete, che ci sono di grande aiuto. Quindi è un invito a tenere aperta la vostra mente a 360 gradi. Quindi non riducete mai la conoscenza, come dire, focalizzata e localizzata in questo modo qui, in modo settoriale. Ed è quello che con noi, con i nostri corsi di studio, puntiamo. Conoscenze trasversali e multidisciplinari collegate le une alle altre. Detto questo, anch'io non mi dilungo oltre, se non per dirvi che anche il corso di scienze biologiche è un corso a numero programmato per le stesse ragioni che vi ha già detto la professoressa Marinelli, con l'unica differenza che abbiamo la possibilità di fare accettare un numero un po' più ampio di studenti. Quest'anno siamo arrivati a 275 perché per il primo anno è previsto lo sdoppiamento. Quindi non è che essendo di più siete meno seguiti. Siete di più ma abbiamo uno sdoppiamento vuol dire che per il primo anno abbiamo raddoppiato il numero di docenti. Detto questo, io, come dire, vi lascerei a sicuramente argomenti più interessanti ringraziando gli organizzatori, ringraziando i relatori, ma ringraziando soprattutto voi perché come dico sempre quando si organizza una festa se poi gli invitati non ci sono che festa è. Quindi buona giornata e grazie ancora a tutti. Benissimo, grazie ad entrambe per il vostro intervento. adesso possiamo invece passare diciamo al club della giornata. Prima di passare al primo relatore che adesso vi presenterò vi dico che potete fare domande via chat e alla fine di ogni intervento dedicheremo cinque minuti per fare domande. Bene, allora adesso possiamo iniziare con il dottor Alberto Vianelli che appunto ci parlerà di virus ed evoluzione. Il dottor Vianelli è un ricercatore presso la nostra università presso l'Università dell'Insubria si è laureato in scienze biologiche presso l'Università degli Studi di Milano e si è poi in seguito specializzato negli Stati Uniti sulla biologia dei virus batterici. Ha svolto attività di ricerca in microbiologia e biofisica presso diverse università italiane ed estere e dal 2008 si occupa di evoluzione dei virus e in particolare dell'origine di nuove caratteristiche e funzioni argomento su cui all'attivo diverse pubblicazioni e quindi ti passo la parola Alberto grazie il titolo dell'intervento è appunto virus ed evoluzione grazie mille Annelisa grazie mille a a tutto il comitato organizzatore per per aver pensato a me per questo tema dunque io sottoscrivo assolutamente quello che che ha appena detto la professoressa Gornati perché in effetti quello che cercherò di di dimostrarvi è magari non tanto o non solo l'evoluzione dei virus che è un argomento direi abbastanza complesso perché poi richiede analogamente allo studio delle epidemie la conoscenza di l'utilizzo di modelli matematici eccetera ma vorrei parlarvi anche dell'importanza dei virus nell'evoluzione dei viventi in generale quindi anche vedremo come i virus possono contribuire alla all'evoluzione di altri organismi altri organismi fra cui anche l'essere umano chiedo se mi sentite comunque tutto posto l'audio perfetto d'accordo allora direi anche così per cercare di trovare un filo negli interventi di oggi di aggiungere un filo quasi casualmente toccano in fondo tre aspetti fondamentali della ricerca scientifica in particolare della ricerca biologica uno è quello su cui mi concentrerò si tratta più di ricerca di base chiamiamola il dottor Tosi parlerà di un argomento fondamentale oggi che aumentano sempre di più i dati sia i dati riguardanti gli organismi stessi sia i dati riguardanti la diffusione delle malattie la cosiddetta epidemiologia e l'argomento è quello dei modelli della modellizzazione dell'uso della matematica dell'informatica che ha a che fare sia con la ricerca di base sia con la ricerca applicata e poi la dottoressa Recchia ci parlerà di alcuni aspetti proprio tipici di una ricerca applicata allora è una divisione appunto non così netta ma ci tenevo un po' a darvi anche questo filo di lettura perché i virus allora un attimo che condivido la presentazione e dovrebbe dovreste vedere ecco qua allora innanzitutto diciamo che i virus non è un caso se hanno questa fama un po' un po' particolare perché comunque l'origine del nome che vuol dire veleno è stato sempre utilizzato fin da dall'epoca direi dal Medioevo e oltre fino essenzialmente al XIX secolo e anche fino ad oggi direi come qualche cosa legato alla malattia no addirittura Pasteur che è il grande scopritore del ruolo dei microorganismi dove per microorganismi si intende batteri e virus diceva che ogni virus è un microbo nel senso ogni malattia trasmissibile è dovuta alla presenza di un microbo oggi questa definizione diciamo può essere ancora valida ma quando si parla di virus non si intende in generale una malattia ma si intende una cosa particolare che potremmo definire brevemente così una minuta entità piccolissime dimensioni composta da una parte centrale di un acido nucleico che vedremo può essere RNA o DNA e un involucro fatto da proteine e che si può riprodurre all'interno di cellule dei viventi quindi una definizione che non ha alcuna implicazione per la salute non ha appunto nessuno e uno dei scusate perché ecco qua non vedevo la freccia per far andare è una di diciamo questo aspetto però è relativamente recente è arrivato relativamente recentemente non solo nella divulgazione scientifica ma anche nella stessa letteratura scientifica e diciamo un libro che mi ha abbastanza ispirato uscito prima della pandemia e che consiglio a tutti di leggere è questo libro Il virus buono che vuole proprio essere un pochettino diciamo la parte se volete virus angeli più che demoni anche se questa distinzione angeli e demoni sapete che nella stessa religione nella stessa letteratura non è una cosa così netta perché si tratta essenzialmente di qualche cosa che viene dallo stesso dalla stessa dalla stessa fonte e che se mai possiamo pensare agli angeli demoni o diavoli come sicuramente dei dispositivi quasi organismi che sono molto molto con linguaggio atropomorfico potremmo dire furbi tanto quanto altri organismi molto più grossi di dimensioni diciamo ok quindi un po' il messaggio che vogliamo che vogliamo darvi oggi è questo quindi perché che cosa sono in realtà i virus e anche vi spiegherò come quello che normalmente noi chiamiamo virus in realtà dovremmo chiamarlo virione ed è una solo piccola parte di quello che è il virus è come se noi per esempio prendessimo una ghianda prodotta da una quercia e dicessimo quella ghianda è la quercia o uno spermatozoo diremmo lo spermatozoo è l'essere umano vediamo quello che noi chiamiamo virus è in realtà una piccola parte di un ciclo vitale che è molto più più ricco e complesso il numero dei virus sulla terra è impressionante possiamo parlare possiamo parlare di una sorta di materia oscura quando parliamo dei virus probabilmente non conosciamo il grosso dei virus presenti i numeri in termini di particelle presenti per esempio per i virus che infettano batteri sono numeri veramente astronomici come mostra anche questa figura che se mettessimo questi 10 alla 31 particelle virali che infettano batteri presenti sulla terra otterremmo una linea lunga 2 per 10 milioni quindi 20 milioni di anni luce sarà sorprendente ma la stragrande maggioranza dei virus che ci infettano che ritroviamo anche al nostro organismo non ha un grosso impatto sulla salute e il benessere una parte di questo ovviamente è grazie al nostro sistema immunitario ma non solo perché dobbiamo considerare che in quello che noi chiamiamo microbioma quindi tutte le particelle di dimensione gli organismi scusate di dimensioni microscopiche quindi i batteri e i virus insieme costituiscono il microbioma troppo spesso si parla di microbioma pensando solo ai batteri dicevo il microbioma è una parte costituente co-costituente del nostro organismo e per esempio noi in un essere umano troviamo mediamente un numero che come vedete è dell'ordine del milione di miliardi di particelle virali che cosa fanno queste particelle virali ma alcune per esempio sono state dimostrate avere un effetto benefico sulla salute perché interagiscono modulandone la presenza con per esempio i virus batterici con i batteri presenti nel microbioma uno schema molto rapidamente qui diciamo possiamo vedere quello che è un quello che accade diciamo quando un batterio diventa virulento e la virulenza può essere può essere può essere diciamo rallentata da l'azione dell'attivazione del sistema immunitario a sua volta può essere avviata dalla infezione di particelle virali oppure dalla presenza di batteri o fagi cioè di virus che vanno a colpire e a distruggere i batteri e che evidentemente servono a bilanciare i batteri presenti al nostro interno quindi vedete che abbiamo già visto è una delle cose utili un'altra che riguarda per esempio le piante è stato dimostrato che c'è una piante in grado di vivere a 55 gradi grazie alla presenza di un fungo ma praticamente questo fungo è in grado di permettere alla pianta di vivere a questa alta temperatura solo quando è infettato infettato da un virus quindi qui possiamo parlare di un virus implicato in una relazione simbiotica quindi tutt'altro che la classica idea di virus naturalmente le malattie infettive che conosciamo tutti purtroppo sono molto importanti qui vi mostro solo un esempio anche perché non voglio restare molto sul coronavirus un esempio di di dati raccolti nel 2004 quindi in un periodo post epidemia di SARS dove che cosa voglio farvi vedere voglio farvi vedere che è innegabile che fra le malattie infettive quelle diciamo importanti sono date da virus in parte o completamente e le malattie più più importanti sono date da virus a RNA e di questo abbiamo avuto tristemente diciamo una conferma recentemente ok ma per capire un pochettino meglio quindi come sono legati i virus all'evoluzione è che vi riassumo vi ricordo che questo termine oggi significa il processo attraverso i quali gli esseri viventi cambiano nel tempo di generazione in generazione e quello che generalmente avviene è che gli esseri viventi si adattano all'ambiente in cui vivono la stessa cosa ovviamente vale vedremo per i virus e qual è quindi quello che ci si aspetta per l'evoluzione dei virus la capacità essenzialmente di non tanto di per forza di infettare creare malattie ma di riprodursi come fanno tutti gli esseri viventi come è una delle caratteristiche fondamentali della vita quindi adattamento per un virus vuol dire sostanzialmente mantenimento se non addirittura aumento della possibilità di riprodursi ok allora virus ripeto per semplicità dico virus ma tra un minuto vedremo che dovrei dire virione e lo sfondo di questa diapositiva mostra le diverse forme che possono che possono assumere veramente qualche cosa che supera anche la fantasia di di un disegnatore allora un virus possiamo dire che è un parassite infettivo intracellulare obbligato d'accordo come abbiamo detto costituito da materiale genetico racchiuso da un involucro proteico e a volte circondato anche da da una membrana qui vi faccio vedere qualche immagine che potrà esservi familiare questa è la tipica immagine dei virus che infettano i batteri i batteriofagi non sono tutti così ma le tipiche immagini questa purtroppo la conoscete e qui due immagini quella in basso è del virus dell'HIV che è un lentivirus ebbene parlerà dell'entivirus la professoressa Recchia e questa sopra è l'immagine invece di un parvovirus in particolare la professoressa Recchia vi parlerà di un dependovirus cioè il virus adeno associato che è il virus alla base anche della vaccino cosiddetto vaccino di Oxford vaccino AstraZeneca appunto non voglio fare lo spoiler che cosa che cosa accade nella vita di un virus allora il virione che è l'entità che contiene l'acido nucleico circondato nella proteina infetta una cellula che è la cosiddetta cellula ospite per fare che sostanzialmente la stessa cosa che accade normalmente all'interno della cellula quando ho un un acido nucleico cioè arrivo alla produzione di proteine se ho già l'RNA produco direttamente le proteine se ho invece il DNA devo produrre l'RNA che poi porterà alla produzione di proteine queste proteine che cosa sono essenzialmente l'involucro delle particelle virali che il virus riprodurrà ma siccome ogni virus ogni virione contiene l'acido nucleico nella infezione dovrò anche produrre copie vedete questa freccia del genoma d'accordo ok e in questo processo di copiatura del genoma la copiatura non è mai come in tutti gli esseri viventi perfetta ma vengono commessi degli errori e i virus in particolare rispetto agli altri esseri viventi commettono commettono più errori e direi che a questo punto che abbiamo introdotto questo discorso potremmo subito direi andare a vedere andare a vedere innanzitutto cosa sono questi virus a DNA e virus RNA virus RNA sono i virus più piccoli e di cui il coronavirus è tra l'altro diciamo il tipo di virus più grande fra i virus di fra i virus a RNA quello che mi preme però ci sono tanti tipi appunto di virus RNA ce n'è anche altri a DNA quello che mi preme è dirvi innanzitutto qual è la differenza richiamarvi e qual è la differenza principale tra il DNA e l'RNA che può essere considerato molto simile a uno dei due filamenti che compongono il DNA quindi sono effettivamente due molecole parenti che funzionano in maniera coordinata e non è sorprendente trovare che alcuni virus contengono il DNA e altri l'RNA virus a DNA possono essere tanti possono avere un singolo filamento o un doppio filamento appartengono ai virus RNA virus che voi di cui avete sicuramente sentito parlare il papillomavirus l'herpes la varicella il vaiolo eccetera eccetera appartengono invece ai virus RNA quelli dal punto di vista medico più importante il coronavirus ma non solo il virus dell'epatite il virus del raffreddore il virus della poliomelite l'influenza la rabbia il morbillo eccetera eccetera i rotavirus i virus intestinali eccetera eccetera bene fondamentale è capire appunto quello che chiamiamo tasso di mutazione cioè sostanzialmente la velocità con cui vengono commessi errori nel duplicare il genoma vedete che mentre per i batteri prendiamo i cosiddetti eucarioti cosiddetti eucarioti scusate mi ero messo un timer per un quarto d'ora benissimo perché vorrei comunque se possibile lasciarvi lasciare più spazio di cinque minuti per le vostre domande dicevo i virus prendete per in più i virus RNA ad ogni replicazione di un genoma in un genoma avviene mediamente una mutazione è abbastanza è abbastanza sono vedete 300 volte in più per esempio dei batteri e dei virus a DNA e 100 volte in più di quello che avviene per replicazione nel genoma degli esseri umani perché una cosa importante da capire che mi pare sia poco spiegata anche negli interventi divulgativi nella televisione e sui giornali è che tutti gli esseri viventi quando si duplicano le cellule all'interno dell'organismo oppure la duplicazione in vista della riproduzione tutti fanno delle copie con degli errori quindi la mutazione è un fenomeno non solo è diffuso ma è anche ha una tra virgolette certa utilità perché è proprio la diversità degli esseri viventi che si genera ad ogni processo riproduttivo che è la base poi perché possa operare la selezione naturale e che quindi gli organismi che sono più adattati a vivere in un certo ambiente si possano riprodurre di più degli altri ed è così che avviene l'evoluzione ecco perché i virus a RNA fanno così tanti errori beh perché essendo una molecola di RNA ha bisogno per essere replicata di un macchinario che la cellula non ha e di solito viene portato dal batterio il macchinario che ha invece la cellula che duplica il DNA è un macchinario di altissima precisione e quindi sostanzialmente è un processo più più soggetto ad errore però i virus lo utilizzano tra virgolette per generare tanti virus diversi in modo tale che potranno appunto eventualmente sono pronti per adattarsi a situazioni diverse quale può essere una situazione diversa per esempio l'arrivo di un vaccino che pone un fattore selettivo d'accordo va a bloccare inattivare i virus ma chiaramente che cosa succederà fra i tanti virus presenti ce ne sarà qualcuno mutato che potrà sfuggire al vaccino eccetera eccetera non posso diciamo soffermarmi molto su questo ma volevo essenzialmente volevo essenzialmente dirvi ecco per esempio nei un altro fenomeno importante nell'evoluzione oltre alla mutazione è la ricombinazione cioè due genomi diversi ciascuno ha mutazioni diversi possono ricombinare questa ricombinazione diciamo si sa come avviene in vari virus fra cui anche i coronavirus e questo spiega come è possibile che ad un certo punto sorgano delle varianti dei mutanti che contengano mutazioni che prima non erano presenti ma che provenivano probabilmente da due virus diversi e così si pensa se si sia generata per esempio la cosiddetta variante inglese allora mi sarebbe piaciuto parlare un po' di questa differenza tra virione e cellula infettata e tutto questo noi dobbiamo considerarlo virus d'accordo possiamo dire il virus è un organismo che possiede due fasi nel suo ciclo vitale di cui noi vediamo noi studiamo noi siamo interessati soprattutto al virione perché è la particella che si muove da una cellula all'altra che si muove da un individuo all'altro ma non è tutto il virus è molto più complesso e invece voglio voglio passare a un punto a un punto importante e che mi porterà a che cosa mi porterà a mostrarvi che non solo i virus evolvono ma contribuiscono anche all'evoluzione degli esseri viventi entrando a far parte del loro DNA ma questo non ci deve assolutamente spavettare perché per quello che sappiamo i virus che sono entrati a far parte del nostro DNA hanno fornito hanno dato delle funzioni che l'organismo anche l'essere umano non aveva e quindi dobbiamo pensarli di nuovo in senso positivo bene due parole semplicemente per capire questo entrare del virus del genoma del virus nel genoma degli organismi è che normalmente il ciclo vitale di un virus è cosiddetto ciclo litico cosa vuol dire ciclo litico ciclo litico vuol dire che il virus inietta il suo invia il suo inietta solo in alcuni casi il suo acido nucleico nella cellula qui mostrato un batterio quando le particelle virali si sono poi si sono poi come come vi ho mostrato scusate nella figura precedente si sono si dice assemblate e questo è fondamentale vedrete nel terzo intervento per capire come io posso costruire dei virus che contengono anche altre cose cose non necessariamente che sono il loro genoma ma il loro genoma magari per esempio modificato eccetera eccetera dovete pensare a proprio un qualche cosa che costruisce la cellula infettata costruisce dei pezzi che poi vengono assemblati ok e la cellula viene in questo caso distrutta nel ciclo litico ma c'è anche la possibilità nel ciclo lisogeno che il genoma del virus si integri nei cromosomi nel genoma nel genoma dell'ospite un esempio e in questo caso scusate parliamo di virus persistenti e sono i virus come l'herpes come l'HIV che sembra che non siano anche quando sembra che non siano presenti circolanti nell'organismo se la persona è stata infettata rimangono comunque persistenti in alcune cellule nel caso dei cosiddetti retrovirus di cui esempio è l'HIV io ho proprio una integrazione del genoma nel cromosoma nel cromosoma dell'ospite e questa integrazione può avvenire perché nonostante il retrovirus sia virus a RNA un enzima è una proteina la trascrittasi inversa lì trascrive inversamente quindi dal RNA passo al DNA inversamente perché normalmente nelle cellule dal DNA si passa all'RNA bene possiamo partire da questa figura dunque quanto tempo mi rimane credo che mi rimangano pochi minuti ma direi che sono quasi alla conclusione una forse delle scoperte più interessanti legata al sequenziamento del genoma mano è stato il vedere che nel genoma mano ben l'8% del DNA è costituito da sequenze di retrovirus che si sono integrate quindi noi il nostro DNA è fatto anche di virus e di elementi che noi chiamiamo elementi genetici mobili o trasponibili che una volta non facevano parte sono elementi come dice la parola mobili da un organismo da un organismo all'altro d'accordo e che però attenzione costituiscono percentuali dell'ordine ripeto della decina e quindi quasi il 40% del genoma mano è costituito da questi elementi che o sono ex virus o assomigliano a virus cosa ci fanno cosa ci fanno questi elementi beh l'esempio più classico più interessante è quello dell'implicazione di un retrovirus nella evoluzione della placenta dei mammiferi appunto placentati d'accordo e si pensa che all'origine dei mammiferi placentati nell'evoluzione circa 150 milioni di anni fa vi sia stata l'infezione di di un retrovirus e successivamente seguita successivamente da nelle varie linee evolutive infezioni di altri retrovirus che hanno perfezionato vari tipi di placenta come come è possibile che un virus abbia a che fare con una struttura diciamo come la placenta umana beh tutto si spiega grazie a una proteina la proteina ENV vedete l'elettrovirus sono abbastanza piccoli hanno solo pochi costruiscono solo codificano per poche proteine la proteina ENV che sta in effetti per envelope come involucro che è una proteina che praticamente ha fatto sì che le cellule le cellule mammifero potessero in particolare le cellule dell'embrione fondersi con le cellule del del corpo materno perché normalmente è proprio quello che avviene per il virus quando il retrovirus infetta una cellula si fonde con la membrana della cellula orpita capite quindi una sua funzione è stata utilizzata per questo e un virus che è finito nella un retrovirus che è finito nella linea germinale quindi nelle cellule che danno origine agli spermatozoi alle uova è stato poi è diventato parte del genoma non sono gli unici virus ci sono anche integrati nel genoma umano ci sono anche virus che provengono da scusate elementi del genoma che provengono da virus a singolo filamento di RNA o singolo filamento di DNA e qui è giusto per darvi un'idea della storia dell'integrazione di questi virus un ultimissimo esempio proprio di questi giorni di questi mesi e mi piaceva riportare questo titolo della rivista The Atlantic non sappiamo nulla quasi nulla sui virus giganti i virus giganti sono particolari virus scoperti negli anni 90 che infettano le ameve sono grandi quasi quanto una cellula d'accordo e la grande sorpresa è stata un articolo sorpresa fino a un certo punto ma diciamo sorpresa perché si pensava che l'integrazione di virus fosse legata a piccoli virus i retrovirus i virus a singolo filamento di RNA DNA invece cosa si è scoperto che nelle alghe verdi d'accordo si trovano al loro interno interi genomi di questi virus giganti questa è una scoperta pubblicata in novembre del 2020 d'accordo vedete ci sono alcune alghe in cui addirittura il 10% del genoma è costituito da un grande virus che si è integrato che si è integrato un'ultima cosa è che è stata recentemente in vista direi due cose uno è il fatto generale cioè che i virus il fatto che noi abbiamo questa noi tutti gli esseri viventi hanno una relazione continua costante con i virus sono stati un driver uno stimolo un fattore selettivo per generare la diversità la diversità delle proteine la diversità quindi alla fine per generare come gli organismi sono come anche noi stessi siamo e in particolare sono anche le infezioni virali e batteriche sono state fondamentali nell'evoluzione del sistema immunitario che è stato anche fondamentale nell'evoluzione della specie umana dai sovi antenati mi sarebbe piaciuto parlarvi anche delle vi faccio giusto vedere una diapositiva finale diciamo dell'argomento che io ho studiato per tanti anni cioè i cosiddetti geni sovrapposti che è un altro modo di evoluzione del virus vale a dire sequenze del genoma che invece che codificare come solitamente una proteina ne possono codificare più di una e questi geni esistono anche sia nel genoma della SARS vedete in questo caso 3A 3B sono due proteine fatte dalla stessa sequenza 9B e è interessante e a mio parere ma non solo a mio parere anche di molti colleghi poco studiato relativamente poco studiato quello che accade nel SARS coronavirus 2 cioè che ci sono geni sovrapposti quindi c'è stata un'evoluzione a partire da SARS che ha coinvolto non solo mutazioni le classiche mutazioni ma anche la presenza vedete di altri geni sovrapposti che qua non ci sono e diciamo che su questa su questa indicazione chiudo un po' da demone dopo aver parlato di virus angeli ho chiuso quella da demone e non so bene quanto tempo ho consumato allora abbiamo finito il tempo non sono riuscito dobbiamo passare la parola agli altri relatori anche perché poi intanto magari raccogliamo se ci sono domande alla fine io ho anticipato ma al momento non ci sono domande comunque Alberto ti chiedo di rimanere certamente così magari alla fine sono curioso di sentire i miei eventuali domande va bene allora passiamo al prossimo relatore il dottor Davide Tosi che è un ricercatore in computer scienze presso l'università degli studi dell'Insubria ha una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni e una in informatica e anche un dottorato di ricerca in informatica lavora nell'ambito della qualità del software e dei big data e analisi dati e ad inizio della pandemia ha studiato i modelli predittivi per definire la cura dei contagi in Italia e da questo lavoro sono nate alcune pubblicazioni scientifiche internazionali un portale web www.covid19-italy.it in cui sono visibili i grafici della pandemia e una pagina Facebook dal nome Predire meglio che curare di divulgazione scientifica sul covid-19 e quindi oggi ci parlerà di virus matematica e contagio quando predire è meglio che curare grazie grazie Davide grazie a voi per l'introduzione io farò proprio una panoramica di alto livello di quello che è il mondo dei dati calandoci poi nel contesto appunto della pandemia che abbiamo che stiamo vivendo partirei subito col mostrarvi la presentazione ecco l'idea qui è appunto quella di mettere un po' insieme il mondo della matematica più che matematica dell'analisi dati e quello che è stata poi la pandemia che abbiamo vissuto in questo anno partiamo subito da quali dati possiamo utilizzare noi per una pandemia o comunque quando dobbiamo analizzare l'andamento di una pandemia di tipo globale tipo quella che abbiamo vissuto quest'anno per poi calarci nel contesto nazionale regionale provinciale dove dove viviamo la prima domanda quindi che ci dobbiamo fare quali dati utilizzare beh negli ultimi anni nella ricerca dell'informatica sono nati e vanno molto di moda quelli che sono i big data probabilmente è un termine che avrete sentito magari in televisione magari letto sui giornali magari anche in qualche libro e sono dati che ci danno una grande informazione se siamo in grado di elaborarli e gestirli per esempio vi riporto qui due esempi il primo è quello relativo alle macchine a guida autonoma voi sapete se siete anche magari fortunati possessori di una tesla le tesle sono dotate le tesla sono dotate di guida autonoma di terzo livello quindi siamo vicini al quarto livello che è la guida autonoma al 100% ecco macchine di questo tipo sono equipaggiate di decine e decine di sensori che continuamente raccolgono dati e informazioni appunto da telecamere piuttosto che altri sensori radar eccetera che raccolgono questi dati e le elaborano elaborano questi dati e producono della conoscenza che nello specifico di macchina a guida autonoma è quando frenare quando accelerare come sterzare come rispettare i cartelli stradali eccetera eccetera ovviamente sotto tutti questi sensori che raccolgono i dati noi abbiamo del software che va a elaborare questi dati a analizzare questi dati e a produrre appunto questa conoscenza ecco considerate per darvi un'idea di cosa stiamo parlando visto che stiamo parlando un po' di genomica biologia eccetera il software per la guida autonoma nelle auto nelle Tesla è composto da circa 100 milioni di righe di codice noi abbiamo 100 milioni di righe di software per gestire tutti i sensori che queste macchine sono equipaggiate questo coincide circa con il genoma del topo ha la stessa complessità questo software del genoma del topo se invece prendiamo come secondo esempio i servizi di google tipo gmail quindi la vostra casella email piuttosto che google drive dove potete caricare in cloud tutti i vostri documenti piuttosto che google meet come piattaforma che magari avete utilizzato per fare la dad a distanza piuttosto che il browser google chrome eccetera eccetera questi servizi di google sono formati da 2 miliardi di righe di codice quindi pensate che sono stati dei programmatori che sono messi lì e negli anni hanno sviluppato tutta questa mole di righe di codice e qui stiamo parlando di complessità di codice complessità dei software che è vicina a quella del genoma umano quindi abbiamo una complessità nel limitatamente i servizi di google che è pari a quella del genoma umano questo per farvi capire la quantità di informazione e la quantità di righe di codice che noi siamo in grado di generare e che siamo in grado di elaborare vi faccio qualche altro esempio la definizione di big data è una definizione molto più complessa della sua traduzione big quindi grandi volumi di dati si parla sempre delle cinque famose V che ci danno un'indicazione di quello che sono veramente i big data la prima è il volume dei dati che noi siamo in grado di raccogliere ecco considerato io vi ho riportato in basso in questa slide che nel 2020 sono stati raccolti 1,2 zbyte di dati che cosa vuol dire vuol dire mille miliardi di terabyte di dati in un anno voi sapete che il vostro calcolatore il disco del vostro portatile piuttosto che del vostro desktop al massimo arriva a un tera due tera di dati e pensate quanta informazione avete dentro quanti dati avete dentro avete dentro musica avete dentro film avete dentro un sacco di documenti di file di mail ecco in un anno nel 2020 sono stati generati mille miliardi del vostro disco da un tera poi tutti questi dati devono essere elaborati in tempo quasi reale quindi una delle caratteristiche dei bit data è proprio l'elaborazione in tempo quasi reale quindi istante zero micro millisecondi magari anche qualche secondo perché siamo nel near real time noi dobbiamo essere in grado di elaborare questi dati e generare conoscenza a partire da questa mole infinita di dati dobbiamo saper gestire diverse fonti di dati ormai siamo circondati da sorgenti da sensori da elementi che raccolgono dati per esempio abbiamo ovviamente i vostri cellulari abbiamo gli smart tv abbiamo gli smart watch che raccolgono per esempio la vostra frequenza cardiaca vi permettono per esempio di fare elettrocardiogrammi su questi sono tutti i dati anche dal punto di vista della salute che possono essere condivisi nella rete e quindi possono essere elaborati abbiamo tutto quello che arriva dalle reti sociali da skype da youtube da twitter da instagram da twitch da chi più ne ha più ne mette da facebook abbiamo altra moda del momento l'internet of think ovvero l'internet delle cose quindi tutti i sensori che avete in casa dalle lampadine intelligenti dimmerabili piuttosto che le lavatrici intelligenti piuttosto che i forni intelligenti che sono in grado di trasmettere dati trasmettere numeri ok più altri sensori quindi avete una varietà eterogenea di fonti da dove arrivano tutti questi dati abbiamo la variabilità dei dati l'inconsistenza dei dati quindi un problema nell'elaborazione di big data è la qualità del dato che io vado a raccogliere qui vi faccio subito un esempio è di proprio questi giorni che si parla tanto dell'errore che è stato commesso da regione lombardia o da ISS e CTS nell'elaborazione della zona rossa per appunto attribuzione di regione lombardia nella zona rossa e si dice che l'errore è stato dovuto ancora è da chiarire se lato regione lombardia o lato ISS quindi governo centrale l'errore sul calcolo dell'indice famoso indice RT ecco io quando circa dieci giorni fa è stata fatta la dichiarazione che l'RT di regione lombardia era 1,4 ho subito fatto un post dicendo attenzione che è impossibile che il dato di regione lombardia dell'RT sia a 1,4 perché il dato dell'RT regionale in tutto dicembre era stato nell'intorno dello 0,9 comunque sotto l'1 era impossibile dal punto di vista proprio analitico dei dati avere un RT a 1,4 improvvisamente quindi subito si era accesa la lampadina che c'era un'inconsistenza nei dati c'era qualcosa a livello proprio qualitativo dei dati raccolti che dava un problema purtroppo in pochi o probabilmente nessuno si è accorta di questa inconsistenza e si è arrivati poi a metà gennaio a classificare regione Lombardia in zona rossa poi tre giorni fa è venuto fuori sul Corriere quindi è nata tutta la polemica che c'era qualcosa che non andava nei dati trasmessi adesso bisogna capire di chi è la responsabilità però era evidente che qualcosa non andava nella qualità dei dati che aveva portato a questo diciamo valore fuori scala dell'RT di regione Lombardia c'è tutta una questione della veridicità dei dati nella gestione della privacy e dell'anonimizzazione per esempio pensate a altro tema caldo sul Covid che era caldo qualche mese fa l'app Immuni l'app Immuni andava a raccogliere dati va a raccogliere dati delle persone per creare appunto la rete di connessione tra chi è infetto chi è potenzialmente infetto con chi sei stato a contatto e se poi essere stato a contatto con persone più o meno positive ecco qui è nata tutta la questione della privacy quindi ci sono state le barricate di gente che dice no io non mi stavo Immuni perché va a violare la mia privacy non è così perché comunque tutte le informazioni quando si parla di elaborazione dati tutte le informazioni vengono anonimizzate con modelli di criptografia anche molto complessi in modo da rendere impossibile l'associazione del dato con l'anagrafica della persona che ha prodotto quel dato quindi anche qui c'è tutto un tema di privacy anonimizzazione c'è un tema di complessità dell'elaborazione e poi c'è tutto l'aspetto che deriva dai modelli che io devo andare a applicare per elaborare questi dati quindi ci sono i classici modelli matematico statistici di correlazione di regressione che sono modelli che vengono utilizzati ormai da molti anni e sono modelli che cercano di trovare una correlazione quindi un legame di interdipendenza tra due o più variabili quando si parla per esempio di modelli di regressione multivariati tra variabili dipendenti e variabili indipendenti quindi variabili che tra di loro sembrano non avere alcuna interdipendenza alcuna relazione invece poi con l'osservazione di una sola variabile io sono in grado di predire e qui torniamo un po' all'introduzione che facevamo predire meglio che curare predire quello che potrebbe essere il valore dell'altra variabile poi negli anni però sono nati appunto altri meccanismi matematici altri modelli per elaborare questi dati da una parte ovviamente c'è tutta una gestione di come salvare questa grande quantità di dati quindi si parla di cloud si parla di piattaforme hardware dedicate dall'altra c'è come elaborare in tempo reale questi dati quindi come definire gli algoritmi matematici e poi prodotti in programmi software che siano in grado di elaborare sempre a tempo zero tutti questi dati e poi dall'altra è nata tutto il filone di ricerca che si occupa di dei modelli matematici statistici e di poi machine learning di intelligenza artificiale di deep learning per elaborare questa mole di dati con l'obiettivo finale di generare della conoscenza che senza l'utilizzo di questi dati di dimensioni quasi infinite sarebbe impossibile avere come possiamo utilizzare poi questi dati perché un discorso è sempre l'aspetto teorico ovviamente non abbiamo né il tempo né le risorse per entrare nei dettagli teorici ma abbiamo giusto una decena di minuti ancora per capire no quello che è l'utilizzo dei dati come utilizzarli diventa importante appunto l'aspetto pratico l'aspetto pratico che ci dice come appunto generare conoscenza a partire da questi dati io sono stato coinvolto in diversi progetti di ricerca europei a partire dal 2011 2012 proprio sui temi dell'analisi dati e nello specifico dei big data e abbiamo utilizzato questi dati per esempio per generare conoscenza su come la popolazione si muove nell'intorno dei point of interest che cosa sono i point of interest sono i punti di interesse di una città per esempio nell'immagine voi vedete quella che è Milano centro di Milano e la cerchia di Milano provincia questo era un progetto di ricerca europeo insieme a Vodafone Italia e si usava la segnalazione che i nostri telefoni continuamente generano con le antenne scambiano con le antenne telefoniche per capire come la popolazione si muove nell'intorno del Duomo di Milano del Teatro a Cimboldi della stazione di Cadorna piuttosto che lo stadio di San Siro quindi in real time noi eravamo in grado di generare informazione sulla densità e su come la popolazione si muove nell'intorno di questi point of interest piuttosto che derivare informazioni per esempio di traffico veicolare quindi sempre a partire da variabili e da dati che sembrano non avere alcuna correlazione quindi interdipendenza con il dato di traffico veicolare invece noi generavamo informazioni su le aree più congestionate di Milano sempre in real time quindi andavamo a elaborare circa 5 giga di dati che venivano raccolti in una giornata dalle antenne telefoniche solo per l'area di Milano stiamo parlando e in pochi minuti ogni due minuti noi eravamo in grado di raccogliere dati aggiornati elaborarli tramite i nostri algoritmi questi erano algoritmi basati su modelli di regressione multivariata che prendevano quindi più variabili in considerazione oltre al dato sulla segnalazione quindi sui dati scambiati con le antenne telefoniche per poi derivare appunto le aree congestionate nere piuttosto che un po' meno congestionate rosse fino a dove avevamo aree con traffico scorrevole aree gialle o verdi della città oppure anche progetti per sempre a partire dei dati che la telefonia si scambia con le antenne per derivare i consumi elettrici dei palazzi della città di Milano quindi anche qui si cercavano delle correlazioni matematiche tra quelle che era la densità delle informazioni scambiate tra i telefoni e le antenne con i consumi poi energetici reali dei palazzi delle città oppure progetti di micromarketing e finanza quindi come andare a mantenere viva l'attenzione dei propri clienti per esempio questo era un progetto che avevamo fatto con un istituto bancario italiano molto importante il progetto voleva trovare il modo a partire dall'analisi di tutte le discussioni che i clienti facevano su Facebook o su Twitter eccetera ovviamente discussioni pubbliche non è che si andava a rubare la discussione degli utenti ma quando voi avete un profilo pubblico i dati e quello che scrivete può essere elaborato in modo automatico da un sistema software quindi l'idea era quella di elaborare questi dati verificare tutto quello che i clienti facevano sui loro contocorrenti per definire poi delle strategie che evitassero che il cliente lasciasse l'istituto bancario quindi se si vedevano delle manovre strane chiamiamole così quindi magari per esempio il cliente cominciava a fare dei bonifici per spostare tutta la sua liquidità da altre parti allora l'istituto bancario in automatico metteva in campo delle strategie per esempio regalargli dei voucher regalargli un libro regalargli per fidelizzare ulteriormente il cliente oppure magari anche l'analisi automatica di quello che il cliente scriveva su facebook quindi per esempio oggi scrivo su facebook amici chi ha da suggerirmi un buon mutuo perché devo comprare casa nuova allora lì l'analisi automatica del delle frasi di quello che veniva scritto veniva elaborata dalla banca e subito arrivava una pubblicità che diceva guarda solo per oggi io ti offro un mutuo agevolato con un 10% di sconto sulla rata queste erano tutte azioni che a partire da un'analisi dei dati permetteva di arrivare a dare delle strategie per mantenere il cliente vivo e affezionato all'istituto bancario arriviamo al covid in questo anno sono stati generati tanti dati non stiamo parlando di big data perché per esempio la tabella più grande che noi abbiamo elaborato con sui dati provinciali quindi dati che sono poi disponibili dalla protezione civile perché comunque l'importanza di utilizzare dati ufficiali è fondamentale quando si fanno analisi di dati quindi noi abbiamo sempre elaborato dati ufficiali rilasciati in modo ufficiale specifico dal dipartimento della protezione civile questi dati non sono big data perché la tabella più grande che abbiamo contiene 50.000 entry di dati ok quando si parla di big data si parla di milioni di dati però comunque sono tanti dati che possono essere elaborati per dare conoscenza che tipo di conoscenza possono dare questi dati beh dal punto di vista più semplice possiamo generare dei grafici che e delle analisi che dimostrano l'andamento della dell'epidemia quindi curve che ci dicono numero di contagi curve che ci dicono decessi i guariti piuttosto che l'andamento delle ospedalizzazioni delle terapie intensive ma soprattutto ci possono dare delle informazioni per esempio per capire come le curve sono collegate proporzionalmente tra di loro per esempio è facile capire come queste curve le curve dei nuovi contagi rispetto alle curve degli ospedalizzati rispetto alle curve dei decessi seguono sia un andamento proporzionale tra i numeri assoluti sia un disallineamento temporale che è ben definito quando per esempio sentite al telegiornale ancora ieri ancora l'altro ieri ah ma la curva dei decessi non scende la curva dei decessi è una curva che arriva circa 10 12 giorni dopo rispetto alla curva dei contagi quindi voi vedrete l'effetto di quello che state vedendo oggi sulla curva dei contagi sulla curva dei decessi lo vedrete nel futuro lo vedrete fra 10 12 giorni e queste sono tutte analisi che uno può fare e che nel tempo fa per capire appunto come le varie curve sono collegate tra di loro sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista temporale e con queste curve uno poi può studiare i trend quindi oltre a vedere il dato puntuale giorno per giorno può anche studiare i trend per esempio nell'immagine con le tre linee quella blu verde e gialla voi vedete un trend che è la media mobile a 7 giorni di quello che è il dato poi puntuale raccolto di giorno in giorno sui nuovi contagi giornalieri sui guariti la linea verde e sui decessi la linea gialla la curva gialla questo vi dà un trend vi fa capire quello che può essere il trend e dai trend poi si possono elaborare le predizioni su come potrebbe andare la curva in futuro quindi per esempio adesso stiamo osservando una lieve nuova flessione verso l'alto quindi abbiamo avuto questa discesa per una decina di giorni adesso è da un 3 o 4 giorni che stiamo osservando un nuovo trend di risalita è ancora presto per poter dire se si tratta effettivamente di un nuovo flesso di una nuova inversione verso l'alto del contagio però stiamo osservando questo dati che ci possono essere utili per esempio per il calcolo dell'indice RT ne avrete sentito parlare tantissimo in quest'anno le idee purtroppo dopo un anno non sono ancora molto chiare su che cosa sia questo indice RT ma neanche tra i media tra i giornalisti eccetera purtroppo ci sono diversi modelli per il calcolo matematico dell'indice RT per esempio l'ISS che fornisce il dato ufficiale utilizza un calcolo sul calcolo matematico sui sintomatici noi l'abbiamo sempre fatto sul nostro portale utilizzando un metodo che analizza tutta la serie storica dei contagi giornalieri e guardando la varianza del dato eccetera va a calcolare quello che è l'RT di settimana in settimana e il calcolo dell'RT poi può essere utile anche per come vedete nella tabella qui creare degli studi di correlazione tra quello che per esempio è l'andamento dell'RT nelle settimane con quelle che sono state le applicazioni delle zone giallo arancio rosso per esempio abbiamo fatto questo studio per capire qual era l'impatto delle zone gialle arancioni rosse sulla riduzione o sull'incremento fortunatamente riduzione dell'RT sono stati fatti anche altri studi su Lancet Science piuttosto che Nature che andavano a vedere come per esempio la chiusura di alcune attività quindi tutti gli interventi non medici ma come la chiusura delle attività per esempio lavorative piuttosto che sportive piuttosto che i concerti piuttosto che le scuole come andavano a impattare sulla riduzione o meno dell'indice dell'RT altri studi si possono anche effettuare per esempio abbiamo fatto qualche altro studio sulla scuola altro tema caldo capire se la scuola come alcuni sostengono in Italia è un ambiente sicuro e io non riesco a capire come si fa a dire che la scuola è un ambiente sicuro by definition per definizione ma la scuola andrebbe resa sicura perché comunque è un posto dove voi siete in tanti seduti per tanto tempo e quindi questo è un ambiente dove il virus inevitabilmente circola allora abbiamo fatto per esempio degli studi di correlazione che vedete in questa tabella per vedere che impatto avesse avuto la scuola alla riapertura il 14 di settembre sui contagi a livello provinciale di regionale Lombardia e c'è una fortissima correlazione tra le scuole che hanno avuto una più alta incidenza di casi con le province che poi dopo due settimane hanno sviluppato i più alti focolai a livello provinciale noi sappiamo che nella seconda ondata di coronavirus in Italia Varese è stata una delle città più colpite è evidente che Varese ha avuto i più alti contagi nelle scuole all'inizio la riapertura delle scuole quindi a metà settembre che poi ha portato probabilmente nelle mura interfamiliari quindi nelle mura familiari il virus e ha portato a questa esplosione di contagi ricordiamoci anche che voi ragazzi siete nel 75% asintomatici e quindi portatori inconsapevoli del virus all'interno delle mura familiari questo non per dire che la responsabilità è vostra anzi io faccio un plauso ai ragazzi ai bambini e ai docenti per il grosso lavoro che hanno fatto sto dicendo che la responsabilità dovrebbe essere delle istituzioni che dovrebbero mettere in sicurezza le scuole quindi tutti analisi studi in questo caso di correlazione sui dati per capire qual è l'impatto in questo caso della scuola sul contagio abbiamo fatto anche degli studi sui dati di mobilità che Google fornisce voi sapete che Google raccoglie come vi muovete che ha un account Google da il consenso per raccogliere far sì che Google raccolga dati su come vi muovete dove vi muovete eccetera quindi poi Google rilascia tutti questi dati di mobilità in formato anonimizzato aggregato eccetera che ci dicono qual è la variazione della mobilità rispetto delle baseline nei parchi piuttosto che nei grandi magazzini piuttosto che nelle stazioni dei treni e così via e quindi anche qui abbiamo fatto uno studio di correlazione per capire se la variazione in positivo o in negativo di questa mobilità avesse influito sulla variazione della diffusione del coronavirus in questo caso invece non abbiamo trovato delle correlazioni forti tra i due elementi per esempio qui vedete quello che sono tutti i dati di mobilità che vengono raccolti da Google che noi abbiamo analizzato per vedere proprio se ci fossero delle correlazioni con la diffusione del virus un'analisi che avevamo fatto subito a marzo-aprile sempre di correlazione ci aveva permesso di capire come si poteva nel futuro propagare il virus a livello regionale di regione Lombardia a partire dai dati che avevamo raccolto sulla non mobilità delle persone ma sulla mobilità delle merci perché abbiamo avuto questa intuizione che subito a inizio epidemia quindi quando si è sviluppato il focolaio Codogno io mi sono detto ma come mai Codogno e per caso sapendo che a Lodi c'è uno dei più grandi centri di distribuzione merci d'Europa ho detto ma non è che magari c'è qualcosa che deriva da quello allora ho fatto questo studio di correlazione per capire guardando tutti i dati delle direttrici di come le merci vengono scambiate sul territorio Lombardo se ci fosse una correlazione quindi se si potesse prevedere quello che poi sarebbe stato l'evoluzione della pandemia in regione Lombardia e lo studio delle merci ha permesso proprio di capire la strana propagazione che ha avuto il virus sul territorio Lombardo perché uno si aspettava non so se ricordate si aspettava di vedere Codogno e poi si aspettava di vedere l'esplosione a Milano Milano grande centro grande densità grande mobilità delle persone invece no il virus prima si è diffuso in altre aree prima di arrivare a Milano proprio perché le direttrici merce tra le connessioni Lodi Milano piuttosto che Lodi Bergamo Lodi Brescia Lodi Manto eccetera seguivano delle logiche diverse rispetto alla mobilità delle persone e quindi a quello che ci si aspettava come mobilità poi del virus e propagazione del virus qui avete riferimento a qualche pubblicazione che abbiamo fatto la prima è stata quella di un modello appunto predittivo che cercava di capire come poteva l'abbiamo pubblicato su ResearchGate l'8 di marzo quindi proprio a inizio pandemia era questo modello predittivo che cercava di predire quello che sarebbe stata l'evoluzione della pandemia con tutte le fasi tutti gli step e nell'articolo si diceva poi anche nelle interviste che ho fatto in televisione mi piaceva dire vedrete che festeggeremo insieme il mio compleanno io faccio gli anni il 9 di giugno e effettivamente se vi ricordate il 2 di giugno noi abbiamo avuto la fase 2 bis che ci dava il tra virgolette liberi tutti perché la pandemia in prima ondata si era risolta il modello predittivo si basava sugli studi di correlazione più altri fattori del dato italiano con il dato di Wuhan cinese c'era una forte correlazione tra i primi dati che si potevano raccogliere quindi questo mi ha permesso ci ha permesso di derivare quello che era il modello predittivo che studiava l'andamento i numeri assoluti del contagio di prima ondata e le varie fasi del contagio abbiamo poi sviluppato con dei tesisti con dei miei tesisti questo portale dove riportiamo tutti gli studi dell'indice RT tutti i grafici che vengono elaborati in modo automatico e generati in modo automatico quindi c'è anche tutta la parte di elaborazione automatica dei dati covid19-italy.it e la pagina facebook di divulgazione scientifica predire meglio che curare proprio perché qui l'aspetto di predizione è quello che ci evita poi di rincorrere il virus e quindi di rincorrere poi le cure e gli inevitabili decessi che ne derivano io ho concluso spero di avervi fatto giusto una panoramica interessante di quelli che sono i dati e di quelle che sono le analisi che ne possono derivare se poi avete domande io sono a disposizione grazie ok dato che mi sono ok dato che mi sono incaricata appunto di riportare le domande ce ne sono un paio per Alberto però e poi tre per Davide quindi io inizierei con le domande per il dottor Tosi la prima è se è possibile in base ai dati attuali relativi alle vaccinazioni relativi ai contagi fare anche delle previsioni sulla durata della pandemia e sulla fine della pandemia ma sarebbe bello nel senso che purtroppo ci sono in questo momento un po' troppe variabili che stanno complicando la situazione una di queste è la variante inglese la variante l'altra variante che si sta registrando in queste settimane bisogna capire quanto possono effettivamente andare a impattare sul contagio anche a livello nazionale per esempio Spagna Portogallo e adesso forse anche Francia stanno riavendo una cotizzazione in terza ondata del contagio proprio a causa si parla si dice di queste di questa variante inglese io non sono così sicuro che questa variante inglese sia la vera responsabile dell'esplosione del contagio perché i numeri che stiamo osservando adesso in Germania Spagna eccetera ci stanno riportando ai numeri che noi abbiamo avuto in Italia nel senso si è sempre detto ma l'Italia è stata quella più soggetta al contagio ama l'Italia solo i morti solo in Italia ama solo numeri grandi in Italia invece adesso si stanno ribilanciando le cose quindi non so quanto sia la responsabilità della variante inglese probabilmente è più un ribilanciarsi dei numeri in base alle strategie di testing che sono state messe in atto eccetera però è difficile dire che ad esempio adesso abbiamo un ritardo sulla distribuzione e la produzione dei vaccini anche questo è una variabile che va a impattare su come potrebbe finire l'epidemia io sono in questo momento mi sento abbastanza positivo di dire che maggio giugno potrebbe essere un buon momento per per essere verso la risoluzione ecco però sbilanciarli non sono uno di quelli che si sbilancia c'è gente che diceva gente anche luminari seguiti da tantissime persone diceva che a giugno l'epidemia è finita poi l'hanno ripetuto no ma settembre l'epidemia è finita invece poi abbiamo visto cosa è successo ok l'altra domanda sempre correlata diciamo più all'aspetto covid ma in generale poi ai virus è qual è la formula dell'RT cioè quali sono la formula effettiva con cui viene calcolato l'RT allora la formula è abbastanza complessa quindi tirare fuori la formula adesso non mi sembra il caso se volete c'è un articolo noi applichiamo il metodo di Walling e Tunis che è il time dependent method per calcolo dell'RT lì c'è un articolo scientifico dove c'è tutta la trattazione matematica per arrivare a una formula che è una formula complessa che noi abbiamo implementato tramite software abbiamo tramite codice R per derivare poi il calcolo dell'RT però non è una formulina banale ok a questo punto una domanda mia personale ma credo che possa interessare tutti o perlomeno una precisazione l'RT dipende anche dalle caratteristiche del virus quindi non è un valore indipendente giusto? no l'RT poi ci permette di determinare la caratteristica del virus nel senso che poi ogni virus ha quello che si chiama il suo attack rate ovvero appunto l'R0 che è l'indice di diffusione del virus all'istante 0 quindi quando esplode l'epidemia e quella è una caratteristica del virus che noi siamo in grado di per esempio l'R0 di SARS-CoV-2 si è stimato intorno al 2.53 che è un indice molto alto di diffusione ma meno alto per esempio di altri virus che possono avere anche un attack rate pari a 4 ok quindi una capacità di diffusione molto più molto più rapida ok invece un'altra domanda è indipendente e secondo me richiederebbe un'intera giornata dedicata all'argomento perché la domanda è quali sono gli aspetti se ci sono degli aspetti negativi nella gestione dei big data e quali sono credo che non sia una domanda a cui si può rispondere così facilmente sì un pochino abbiamo elencato quindi la capacità di immagazzinare tutti questi dati la capacità di elaborare in tempo zero tutti questi dati la capacità di definire gli algoritmi per generare conoscenza sono nate poi tutte delle figure di esperti di scienziati ma anche nel mondo del lavoro dove abbiamo il data analyst il business analyst che è colui che cerca di capire come generare conoscenza e poi come monetizzare questa conoscenza sono tutti aspetti e tutte figure che sono nate che in tutti i settori dalla biologia all'informatica perché alla medicina ormai i big data sono utilizzati in tutti i settori richiedono poi delle conoscenze specifiche una trattazione poi anche del dato specifico ok allora ci sono ancora un paio di domande che magari giro nella chat privata e così lasciamo spazio a una risposta per Alberto che appunto non prima per questioni di tempo non eravamo passati e poi soprattutto spazio alla presentazione successiva quindi appunto quella della dottoressa Recchi riguardo ai virus fra virgolette buoni quindi Alberto più che altro la domanda cioè diciamo che le domande arrivate sono due ma possono essere riassunte forse in una sola se è possibile come si fa a riconoscere la naturalità di un virus allora sì avevo letto le due domande in effetti messa così ancora più complicata allora direi va beh come si può riconoscere la naturalità essenzialmente comparando la sequenza del genoma del virus con altre sequenze note diffuse presenti nelle banche dati perché provenienti da virus isolati per cui alla fine uno può tracciare ragionevolmente qual è la possibile storia e quindi in questa storia si può si può mostrare che appunto deriva da altri virus che erano presenti per una evoluzione il problema col virus della SARS è che ci mancano sostanzialmente tutti i dati dei virus circolanti nel periodo precedente l'isolamento del primo virus e quindi ci sono molte ipotesi ma al momento l'ultima più più accreditata sulla base anche di quello che è successo in Danimarca sui visoni è basata sul fatto che in Cina io non lo sapevo ma è uno dei paesi che produce più pellicce di visone al mondo ok è possibile che il famoso intermediario fra pipistrello e uomo non fosse pangolino ma fossero dei visoni però questa è una cosa che si sta discutendo proprio in queste settimane non so se così ho risposto forse diciamo che io però posso creare in laboratorio un virus identico a uno che trovo in natura lo posso creare perché posso in laboratorio sintetizzare una molecola di RNA o di DNA d'accordo però diciamo che se se lo creo a mia fantasia vedo dei salti rispetto a quello che c'è in natura e allora lì dico c'è qualche cosa che non va ma per quanto riguarda il SARS coronavirus si può in qualche modo inserire ragionevolmente in una storia di mutazioni e ricombinazioni non so se ho grazie Alberto quindi io lascio la parola ad Annalisa Grimaldi per introdurre il prossimo relatore ok benissimo passiamo quindi alla nostra ultima relatrice la dottoressa Alessandra Recchia che ha una laurea in biologia e un dottorato di ricerca in medicina sperimentale attualmente è ricercatrice in biologia molecolare presso l'università di Modena e Reggio Emilia ed è docente di metodologie biomolecolari e trasferimento genico mediante virus presso lo stesso Ateneo lavora nel campo proprio della virologia e della terapia genica da diversi anni e ha anche pubblicato decine di lavori scientifiche su riviste internazionali quindi oggi ci parlerà proprio di virus che curano grazie Alessandra ti passo la parola grazie buongiorno a tutti innanzitutto volevo ovviamente ringraziare gli organizzatori dell'università di Minsubra di questa giornata sui virus e ovviamente ringraziare per avermi invitato inizio a condividere la mia presentazione che appunto ho intitolato virus che curano direi affermazione piuttosto difficile di questi tempi in piena pandemia ma comunque cercherò di farvi capire che i virus possono anche essere modificati quindi utilizzati come vettori virali per scopi curativi in passato oltre ovviamente al SARS-CoV-2 vediamo una serie di virus che sono stati molto dannosi e patogeni per l'uomo in cima alla lista sicuramente il virus dell'HIV che ha visto nel 2019 più di 37 milioni di casi al mondo e nel 18 un milione circa di morti abbiamo anche conosciamo anche i virus diciamo meno dannosi per l'uomo come l'adenovirus o l'herpes simplex virus altri altri come il papilloma il virus dell'epatite B e il virus dell'epatite C che ha visto anche questo nel 19 71 milioni di casi al mondo e circa 400 mila morti e ovviamente sapete tutti del SARS-CoV-2 con cui abbiamo superato purtroppo questi numeri siamo a più di 90 milioni di casi al mondo e 2 milioni di morti diciamo che per questi virus qui in elenco abbiamo già sviluppato una serie di trattamenti soprattutto farmacologici che bloccano quella che è l'entrata del virus o la replicazione del virus come nel caso dell'HIV dell'adenovirus e dell'herpes simplex sicuramente conoscerete tutti la ciclovir che utilizziamo per un semplice herpes labiale abbiamo anche sviluppato per fortuna dei vaccini contro il papilloma e contro il virus dell'epatite B che è uno dei vaccini obbligatori nei primi nati e per il virus dell'epatite C abbiamo invece non ancora ahimè un vaccino ma abbiamo dei trattamenti farmacologici quindi perché utilizziamo i virus a scopo curativo perché i virus sono degli ottimi macchinari per trasferire materiale genetico all'interno di una cellula cosa che il DNA e l'RNA non riescono a fare quindi se non assistiti i virus invece utilizzano dei recettori sulla membrana plasmatica e quindi entrano efficacemente all'interno di una cellula una volta all'interno comunque i virus sono anche in grado di uscire da queste vescicole chiamate endosomi e raggiungere quello che è il nucleo quindi hanno anche dei meccanismi per raggiungere efficientemente il nucleo e esprimere un materiale genetico quindi come si è passati da virus a vettori per diciamo curare quindi lo scopo curativo la cosa più semplice è stata quello di svuotare il virus quindi rimuovere il materiale genetico del virus e sostituire un gene a funzione curativa mantenendo tuttavia quello che è lo scaffold quindi l'involucro del vettore virale quindi che grande differenza c'è qual è la maggiore differenza tra un virus e un vettore che il virus può infettare anzi infetta molto bene penetra la cellula la membrana plasmatica e poi la membrana nucleare e all'interno va ad esprimere una serie di proteine e geni virali necessarie a compiere quello che è il ciclo replicativo quindi fuoriesce poi dalla cellula va a infettare tutte le cellule circostanti un vettore invece al suo interno porta un gene terapeutico quindi grazie all'involucro esterno può passare la membrana plasmatica e poi la membrana nucleare ma una volta all'interno della cellula esprime la proteina di interesse quindi la proteina curativa quindi il vettore non è assolutamente in grado di replicare all'interno della cellula che è infetta e quindi non può andare a infettare le cellule circostanti quali sono i principali vettori di cui vi parlo oggi utilizzati sia in terapia genica in vaccinazione e in cancro i vettori adeno associati che derivano dall'omonimo virus AV i vettori lentigirali che derivano dal virus HIV e gli adenovirali che derivano dall'adenovirus cominciamo col dire che i vettori virali possono avere un duplice utilizzo utilizzati in vivo che vuol dire somministrati direttamente in un paziente quindi in un organo o nel circolo sanguigno oppure utilizzo ex vivo un vettore virale può essere utilizzato per modificare geneticamente delle cellule prelevate dal paziente in genere cellule staminali adulte modificate in vitro e quindi reintrodotte nel paziente e questo viene chiamato trapianto autologo di cellule staminali geneticamente modificate cominciamo con il parlare del virus adeno associato che è stato riscontrato appunto e scoperto come contaminante di una preparazione di adenovirus è un virus di piccole dimensioni circa un terzo dell'adenovirus ed è molto interessante perché non è stato mai associato ad alcuna patologia nell'uomo infatti circa il 70 90% della popolazione ha incontrato almeno una volta nella sua vita l'adeno associato senza sviluppare alcuna patologia è un virus che infetta cellule di diverso tipo cardiache muscolari endoteliali nervose quindi può infettare sia cellule crescenti che cellule in divisione e fa parte come abbiamo sentito prima dei dependo virus e come dice il nome appunto dipende da un altro virus aiutante o helper per il suo ciclo vitale produttivo ovviamente il primo helper virus identificato è stato l'adeno virus qui vedete appunto i due cicli di cui abbiamo già sentito parlare prima una fase di latenza in cui l'adeno associato integra stabilmente all'interno del genoma della cellula ospite e questo è il caso l'adeno associato è l'unico virus che infetta l'uomo che integra in un sito ben preciso del genoma umano integra in una regione piuttosto piccola di 4000 paia di basi del cromosoma 19 inoltre può compiere anche un ciclo produttivo cosa vuol dire in presenza di un virus helper o aiutante che è l'adeno virus può replicare numerose volte quindi se stesso all'interno della cellula ospite quindi assicurare la progenie virale e da qui può riuscire infettare le cellule circostanti come si è passati da virus a vettore qui vedete schematizzati appunto un virus adeno associato è un virus piuttosto piccolo ha un genoma di 4800 paia di basi e contiene soltanto due geni rep e cap all'estremità troviamo due piccole sequenze ripetute invertite bene che cosa è stato fatto è stato rimosso completamente il genoma virale ed è stato sostituito da quello che può essere la sequenza codificante un gene terapeutico mantenendo soltanto all'estremità le sequenze ripetute terminali invertite quindi mentre abbiamo sentito già prima un virus ha bisogno di una cellula ospite per poter vivere all'interno della quale si replica e genera la sua progenie virale un vettore ha bisogno di una cellula che viene chiamata cellula di impacchettamento o packaging per poter formare un vettore ricombinante in particolar modo per l'adeno associato abbiamo bisogno di tre componenti una che porta il gene terapeutico e alle fiancheggianti diciamo queste strutture terminali ripetute invertite e poi ovviamente dobbiamo fornire quelle componenti necessarie al ciclo produttivo di un adeno associato che sono quindi parte del suo genoma Rep e Cap e i famosi geni helper aiutanti di adenovirus queste componenti quindi vengono veicolate all'interno di una cellula produttrice una cellula di packaging e i vettori ricombinanti così generati sono in grado di infettare una cellula bersaglio all'interno della quale avremo soltanto la produzione della proteina terapeutica senza integrazione ovviamente del genoma virale quindi una modificazione transiente la donna associata è stato scoperto nel 65 e in meno sicuramente meno di 50 anni più o meno nel 2007 nel 2008 si è arrivata alla prima prova di clinica efficacia di vettore ricombinante questa prima prova è stata ottenuta ed è poi diventato un prodotto farmaceutico che si chiama luxturna per una patologia rara che si chiama amorosi congenita di leber di tipo 2 ed è una malattia retinica ereditaria qui vedete schematizzato quello che è il genoma del virus ricombinante del vettore ricombinante che esprime la proteina terapeutica che si chiama RPE65 questo vettore ricombinante adeno associato è stato somministrato nello spazio subretinico quindi sotto retina in pazienti affetti da amorosi congenita di leber nel 2007 2008 si è avuto appunto la prima prova di efficacia clinica quindi il primo trial di fase 1-2 e negli anni successivi sono stati sviluppati altri trial per dimostrare appunto l'efficacia in tutto il mondo fino a trial di fase 3 e quindi fino allo sviluppo di un farmaco che si chiama appunto l'Oxturna posso adesso ai vettori lentivirali che derivano dal virus HIV HIV è sicuramente un virus molto più complesso di un adeno associato e sappiamo ovviamente che è un grande patogeno per l'uomo ha un involucro esterno un capside un po' più interno che racchiude un genoma a RNA il ciclo vitale è sicuramente molto più complesso di un adeno associato infetta cellule grazie all'utilizzo di un recettore ben preciso che è il CD4 che quindi infetta cellule soprattutto linfociti T e macrofagi penetra la membrana plasmatica passa la membrana nucleare e in questo caso il virus si integra stabilmente all'interno del genoma della cellula ospite e una volta integrato esprime tutti i geni e le proteine necessarie a impacchettare nuova progenie virale la quale può fuoriuscire dalla cellula infettata e infettare le cellule circostanti come se passati dal virus al vettore qui in alto vedete schematizzata la struttura del genoma virale sicuramente molto più complessa di prima e anche molto più grande parliamo di 9200 paia di vasi che racchiudono una serie di geni ad attività regolatoria accessoria e strutturale e racchiusi tra queste sequenze ripetute e appunto opposta all'estremità del genoma come vedete il vettore virale derivante che si chiama appunto l'antivirus sin sta per self inattivante cioè completamente inattivo silente all'interno della cellula target ha visto la rimozione quasi totale dei geni del virus sono presenti infatti soltanto corte sequenze qui in giallo e questa in azzurro che fanno parte del virus e corte sequenze delle regioni terminali ripetute tutto il resto del del vettore virale ovviamente è rappresentato dal gene terapeutico anche in questo caso ovviamente abbiamo bisogno di una cellula packaging di impacchettamento e qui il compito viene svolto da quattro componenti una porta il gene terapeutico fiancheggiato da delle strutture terminali ripetute e le altre tre si occupano di produrre quelle che sono le proteine dell'envelop e di tutti gli altri geni necessari affinché all'interno di una cellula di impacchettamento si produca la nuova progenie di particelle lentivirali queste particelle lentivirali ricombinanti sono poi quindi in grado una volta purificate di andare a infettare una cellula target quindi una cellula bersaglio e all'interno di questa cellula il il genoma il materiale genetico contenuto all'interno delle particelle lentivirali può integrarsi stabilmente nel genoma della cellula ospite e quindi in questo caso abbiamo una modificazione permanente della cellula target esistono numerosi trial clinici che utilizzano vettori lentivirali qui schematizzati in questa tabella trial clinici ex vivo dove vedono la modificazione permanente soprattutto di cellule staminali e matopoietiche con dei vettori lentivirali che portano diversi geni terapeutici per curare diverse malattie genetiche più o meno rare a partire dalla beta talassemia dall'anemia falciforme e da delle immunodeficienze volevo solo ricordare uno dei primi prodotti di terapia genica approvati dall'EMA dell'agenzia del farmaco europeo nel 2016 che è basato appunto sull'utilizzo di vettori retrovirali per andare a curare quindi una immunodeficienza che si chiama adaschid i vettori lentivirali tuttavia possono essere utilizzati anche per una terapia genica in vivo e sono stati utilizzati per alcune malattie monogeniche rare con somministrazione quindi del vettore lentivirale nello spazio subretinico o intracerebrale intracerebrale qui vedete i trial clinici attivi ad oggi con il gene terapeutico e la malattia genetica in questione l'ultimo virus di cui voglio parlare sicuramente il più interessante oggi è l'adenovirus che ha una struttura icosaedrica e racchiude un DNA a doppio firamento un genoma a DNA il ciclo vitale è piuttosto semplice infetta una cellula utilizzando un recettore abbastanza noto e caratterizzato che si chiama CAR passa la membrana plasmatica la membrana nucleare e qui di nuovo esprime e produce tutti i geni e le proteine necessarie al suo impacchettamento e alla fuoriuscita dalla cellula infettata che viene lisata viene distrutta il passaggio da virus a vettore ha visto in questo caso numerose generazioni si è passati dal genoma virale che è di 30-35 mila paia di basi con numerosi geni precoce e tardivi che vengono anche qui racchiusi tra due sequenze terminali ripetute si è passati a vettori di prima generazione seconda generazione fino agli ultimi vettori generati che sono stati chiamati GATLESS proprio perché in questi vettori sono stati rimossi tutti i geni virali di adenovirus e quindi del genoma wild type diciamo rimangono soltanto le strutture terminali ripetute e il segnale di impacchettamento oggi però volevo parlarvi dei vettori di prima generazione perché sono stati innanzitutto hanno un sistema di packaging molto semplice a una sola componente diciamo una sola componente viene veicolata all'interno delle cellule di impacchettamento e si producono dei virioni completi di prima generazione come sono stati usati sicuramente sono stati usati per tumori e quindi questi sono stati chiamati vettori adenovirali oncolitici e ad oggi ne conosciamo di due tipi esistono dei vettori in grado di replicare soltanto all'interno delle cellule tumorali e quindi distruggere portare a morte la cellula tumorale ed essere completamente silenti allo stesso tempo nelle cellule normali tra questi vettori diciamo ricordiamo due che sono diventati appunto importanti e noti e approvati come vettori clinici uno nel 1996 che è stato si chiama onyx 15 e l'altro nel 2005 che si chiama oncorine e sono stati utilizzati per tumori solidi e l'altro tipo di vettore adenovirali invece si basa sulla espressione sulla over espressione di una proteina che si chiama p53 che induce apoptosi nelle cellule tumorali che diciamo nella maggior parte dei casi più del 50% sono deficienti di p53 quindi questa overproduzione di questa molecola porta la cellula tumorale infettata dal vettore adenovirale a morte e tra questi tipi di vettori ricordiamo un altro farmaco il primo vettore che è stato commercializzato in terapia genica al mondo del 2003 che si chiama gen design ma sicuramente più attuale oggi sono i vettori adenovirali per vaccinazione conosciamo tutti appunto i vaccini che si stanno sviluppando sia da Oxford AstraZeneca che ReTera basati su adenovirus che esprimono una proteina del capside di SARS-CoV-2 che si chiama spike ebbene questi possono essere degli ottimi vaccini perché quando vanno a infettare cellule muscolari o comunque epiteliali vanno a produrre a altissimi livelli la proteina all'antigene spike il quale poi può essere si dice processato e quindi riconosciuto da delle particolari cellule che qui schematizzate APC dall'inglese antigen presented cells le quali presentano questo antigene spike a quelli che sono poi gli effettori del vaccino che sono di fatto linfociti T di tipo CD8 che sono i veri propri killer dei patogeni e dei virus e linfociti T di tipo CD4 che invece aiutano le cellule B e i linfociti B a produrre degli anticorpi contro la proteina spike quindi oggi vi ho fatto una diciamo una veloce carrellata sui principali vettori utilizzati in terapia genica che derivano dal virus adeno associato dall'adenovirus e da retrovirus e l'antivirus questi sono stati utilizzati in più di 3000 trial clinici ad oggi indirizzati sia in malattie genetiche rare di tipo ematologico relativo alla pelle oppure indirizzati al cancro tutto questo ovviamente è stato reso possibile grazie a una profonda ricerca di base che ha permesso appunto di studiare bene il ciclo vitale di un virus e come diciamo rendere un virus che potrebbe essere appunto anzi è stato un demone alla fine come poterlo utilizzare al nostro diciamo beneficio e quindi farlo diventare un angelo vi ringrazio per l'attenzione sono disponibile per domande grazie grazie Alessandra per la bellissima presentazione interessante presentazione e grazie domande allora per quanto vedo io nella chat al momento non ne sono arrivate invito appunto a scriverle nel frattempo chiedo al dottor professor Tosi se può intervenire riguardo alle due domande che erano presenti in chat e a lui rivolte una diciamo che in parte era già parte delle domande precedenti e la domanda è lei crede che con l'avvento dei vaccini si possa sperare in un calo dei contagi o invece tale calo potrà essere intralciato dai problemi dovuti alla sanità e alle iniezioni dei vaccini alla popolazione sinceramente sto riportando un po' sì che ci sia un calo sicuro è proprio l'obiettivo quello dei vaccini di cercare di ridurre il contagio c'è uno studio sul dato israeliano che è uno studio preliminare però israeli uno dei paesi più avanti con la fase di vaccinazione e è evidente che la vaccinazione sta impattando in modo significativo sulla riduzione del contagio quindi si spera che anche qui poi più si va a vaccinare più si avrà una riduzione del contagio la stessa cosa si sta osservando in UK dove anche lì si ha una percentuale di vaccinazione della popolazione più ampia rispetto a quelli italiani anche lì si sta osservando che si comincia ad avere una riduzione nella curva dei contagi però sicuramente come benchmark il dato israeliano va tenuto sott'occhio ok poi c'era una domanda che riguardava appunto l'eventuale riduzione della curva per la prossima estate mi sembra che tu abbia già risposto nella risposta precedente e invece una domanda un pochino più complessa che chiede per gli studi epidemiologici i modelli di calcolo predittivi sono basati su dati raccolti e il loro trend barra relazioni o esistono anche dei modelli di calcolo di riferimento e se esistono come sono costruiti sì ci sono modelli nell'epidemiologia si parla molto di modelli SIR che sono modelli basati su equazioni differenziali complesse che vanno a vedere e a studiare in modo però non predittivo ma facendo delle simulazioni su come si potrebbe propagare il contagio in base alla percentuale poi di recovery quindi di guariti e di dimensi che si possono avere in base alla percentuale di fatalità e di letalità del virus ci sono questi modelli differenziali che simulano come potrebbe propagarsi l'epidemia noi non abbiamo fatto delle simulazioni ma abbiamo fatto dei modelli di predizione che sono due cose diverse stiamo facendo un lavoro con l'università di Milano Bicocca invece per mettere insieme modelli di simulazione basati sul modello SIR matematico con modelli di predizione ok grazie c'è poi una domanda penso per Alessandra Barra Alberto perché la domanda è quanto la struttura tridimensionale di un virus possa influire sulle caratteristiche in generale che esso assume quindi chi di voi giocatemi la risposta allora comincio la struttura tridimensionale se si intende appunto quello che è l'involucro esterno sicuramente questo determina il modo con cui questo virus entra all'interno di una cellula quindi la presenza l'utilizzo di recettori più o meno specializzati oppure di strutture presenti su membrana plasmatica in genere e quindi il tropismo del virus quindi mentre abbiamo visto per HIV è abbastanza specializzato verso alcuni recettori l'adeno associato o comunque i serotipi di adeno associato utilizzano delle componenti della membrana plasmatica molto se volete semplici quindi diffuse in tutti i tipi di cellule quindi hanno un tropismo una capacità di infettare diverse cellule quindi di diversi organi e tessuti per quanto riguarda poi il discorso di vettore virale questo ovviamente fa anche qui molto la differenza quindi si cerca di utilizzare ovviamente a seconda degli scopi qual è lo scopo dei vettori che hanno un tropismo più ampio per poter raggiungere meglio diciamo soprattutto in una terapia in vivo la maggior parte del numero di cellule nel caso di una terapia genica in vivo posso aggiungere posso aggiungere sempre in relazione ai vettori ma più in generale diciamo che la struttura tridimensionale quindi se pensiamo alle dimensioni del virus determinano quanto sono legate non determinano sempre necessariamente ma sono legate la quantità di acido nucleico al suo interno e quindi diciamo questo ha implicazioni sia in natura nell'evoluzione quindi virus sempre più grandi contengono più DNA sono anche più più complessi ma anche praticamente giusto Alessandra c'è un limite diciamo al DNA che può essere contenuto perlomeno nei virus quelli in alcuni più che in altri ecco quindi ma questo forse più che per la terapia era legato anche a quando diciamo all'uso dei virus come vettori in generale non necessariamente per la terapia comunque certo è fondamentale la struttura per tutte le proprietà del virus ok ci sono ancora un paio di domande una credo è un po' generale che chiede che alcune fonti la domanda è alcune fonti hanno riportato che per il covid sono stati utilizzati anche farmaci che venivano utilizzati per il trattamento dell'HIV come potrei rispondere anche io ma lascio la risposta ad Alessandra sì è vero perché come sicuramente ricordate dalla prima presentazione dal dottor Bianelli appunto sono dei entrambe virus RNA ed entrambe utilizzano una particolare enzima chiamata trascrittasi inversa e quindi ci possono essere sono stati utilizzati in entrambi i casi dei farmaci che inidiscono e bloccano l'attività di questo enzima quindi se volete è questo diciamo il comune denominatore tra questi virus cioè genoma RNA quindi un farmaco che blocca l'attività di questo enzima che si chiama trascrittasi inversa è un farmaco che è indirizzato a bloccare quello che è il ciclo vitale del virus grazie una domanda se permetti vorrei aggiungere importante che questi enzimi deputati alla replicazione dei virus RNA non esistono nella cellula ok e quindi o se esistono è perché derivano da virus che si sono integrati nel genoma quindi comunque diciamo sono farmaci che non colpiscono funzioni normalmente presenti nella cellula volevo solo aggiungere mi sembrava in linea con quello che hai detto grazie ok allora una domanda riguardo per Davide Tosi riguardo il come si prevede che sarà l'andamento diciamo della curva come conseguenza dell'arrivo dei vaccini soprattutto sul personale sanitario allora qui diventa sempre più complesso diciamo non ho studiato l'andamento del dato sanitario quindi dire che cioè riuscire anche a disaggregare le varie tipologie di persone che riceveranno il vaccino diventa difficile comunque non è uno studio che ho fatto ok un'ultima domanda allora non so bene come tradurla perché la domanda i diversi vaccini che saranno disponibili per il coronavirus immagino avranno diverse modalità di vettore virale questa diciamo che i vaccini non sono fatti con una base vettore virale quindi quali saranno gli effetti sulla popolazione esatto quindi non so Alessandra o Alberto se volete dare una risposta Sì allora quelli che sicuramente sono partiti prima sono i vaccini RNA quindi a acido proprio nucleico non proprio nudo nel senso appunto altrimenti sarebbero stati degradati appena iniettati sono in qualche modo protetti da un involucro ma non sono dei vettori virali quindi i vaccini Pfizer e Moderna sono fondamentalmente acido nucleico RNA virale iniettato i vettori virali invece che saranno speriamo prossimi vaccini che arriveranno di Oxford AstraZeneca e Reiteria si basano su adenovirus tra l'altro di scimpanzee proprio per evitare quella che potrebbe essere il problema degli adenovirus umani appunto che noi siamo largamente positivi agli human adenovirus quindi non avrebbero scatenato nessuna risposta nessuna produzione diciamo non avrebbero smosso quello che è il sistema immunitario quindi vengono utilizzati degli adenovirus di scimpanzee che codificano per questa particolare proteina spike di SARS-CoV-2 gli effetti sulla popolazione ovviamente non si sanno se non da studi ovviamente fatti in corso preclinici di fase 1 2 vi ho accennato un po' nei tre clinici esiste una fase preclinica su modelli murini poi ovviamente si passa a una fase clinica di fase 1 di fase 2 di fase 3 e la quale appunto determina sia fase 1 la tossicità del vettore virale fase 2 fase 3 l'efficacia mano a mano in termini di dosi quindi in dose escalation ma anche in termini di in questo caso range di anni a cui somministrare il vaccino sapete che sono stati fatti i primi studi tra i 18 e i 50 anni adesso si sta cercando di andare a fare studi a età superiori ai 50 anni ma anche inferiori ai 18 anni quindi ovviamente gli effetti non si sanno e su questo toccherà solo aspettare e vedere nel tempo ok invito se qualcun altro ha delle domande a scriverle in chat altrimenti scusa c'era una domanda non so se lei me la sono persa chiedevano perché il vaccino non è obbligatorio perché il vaccino non è obbligatorio dato che siamo tutti in pandemia non so chi è una domanda che riguarda la politica e non la sì esatto è più politica che e comunque posso dire che analoghe discussioni a quelle di oggi è impressionante leggerle si sono avute ai primi dell'ottocento col primo vaccino proprio assolutamente identiche è istruttivo bene credo che quindi a questo punto abbiamo finito la mattinata e ringraziamo ovviamente i relatori per la loro disponibilità e per i loro ottimi interventi ringraziamo tutti voi per la partecipazione e a breve i docenti che siano iscritti con i propri studenti riceveranno una mail con il link della registrazione dell'evento e anche con diciamo il link per accedere all'attestato di partecipazione e al questionario di valutazione che comunque io comincio a dividere scusa scusa analita puoi proiettarlo così magari lo stavo facendo lo stavo facendo appunto mi stavo dicendo sto proietto in questo momento il questionario di valutazione che come potete vedere sia per i docenti che per gli studenti vi chiediamo gentilmente di compilarlo e poi potrete anche scaricare l'attestato di partecipazione dell'evento e con questo credo che possiamo salutarci e magari ci vediamo alla prossima la prossima mattina dedicata invece alle plastiche grazie a tutti davvero grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a voi arrivederci arrivederci grazie a tutti